Radio Radicale siamo con Stefano Fassina, economista e deputato di Leu, per parlare della cavalcata dello spread che ha aperto anche un grosso fronte di preoccupazioni dopo l'annuncio della scorsa settimana del governatore della Banca Centrale Europea, la GARD, della fine dell'acquisto dei titoli del debito pubblico. Allora che cosa sta succedendo e soprattutto questa situazione quanto ci deve preoccupare alla luce del fatto che forse noi siamo un po' più deboli rispetto ad altri paesi? La situazione ci deve preoccupare perché siamo in un'economia di guerra, l'inflazione è un'inflazione importata a differenza di quella che registrano negli Stati Uniti e nel Regno Unito, è un'inflazione che non deriva da un surriscaldamento della nostra economia, da una dinamica salariale fuori controllo, è un'inflazione importata e in questo contesto la stretta della politica monetaria aggrava una situazione che è già difficile. L'aggrava in generale, ovviamente l'aggrava ancora di più per gli Stati come l'Italia che hanno un elevato debito pubblico. Quindi la preoccupazione è tanta e il punto è che cosa fa il governo, che cosa fanno i governi degli Stati più indebitati perché è evidente che la chiusura generale del programma di acquisto di titoli di debito pubblico da parte della BCE non può voler dire abbandono dei titoli di Stati appunto in difficoltà, di titoli del debito pubblico di Stati in difficoltà come l'Italia ma anche la Francia, la Spagna, il Portogallo. Quindi è necessaria una reazione affinché venga definito e attivato uno scudo antispread. Le parole vaghe e l'incertezza lasciata dalla Lagarde in conferenza stampa e giovedì scorso certamente non aiutano a dare una prospettiva di stabilità al quadro in cui siamo. Senta, di scudo antispread ha parlato anche l'ex presidente del Consiglio e senatore a vita, Mario Monti, che lo ricordiamo al Senato credo non abbia votato il DEF quando si è discusso a Palazzo Madama. Allora, come ha trovato le parole di Monti sullo scudo antispread e soprattutto in relazione a quello che dovremmo fare, cioè alle riforme che lui propone e che è necessario fare, anche in relazione alla diversità della situazione con cui lui ha affrontato lo spread e noi dovremmo affrontarlo oggi? Francamente ho trovato un po' retorica l'intervista di Monti. Noi oggi abbiamo un debito così elevato non perché negli ultimi anni abbiamo fatto una spesa eccessiva, abbiamo fatto operazioni, come dire, sciagurate. Come è noto c'è stata la pandemia, c'è stato un crollo del PIL nel 2020, c'è stata la necessità di intervenire in modo significativo a salvare famiglie e imprese e da questo derivano io i 20 punti in più di debito che abbiamo accumulato. Quindi, a mio avviso, va tenuto conto della situazione in cui siamo. Poi sarebbe interessante capire queste famose riforme strutturali, quale sono, dopo che abbiamo devastato il mercato del lavoro, abbiamo tagliato le pensioni. Ecco, Monti dice che noi abbiamo annacquato alcune delle riforme che erano state fatte. Non so come ha trovato questo. Ma, ripeto, sarebbe interessante che venissero elencate queste famose riforme, tra virgolette, da fare per far ripartire la crescita, perché se ne parla da 30 anni, ma poi alla fine, quando va a vedere, si tratta solo di precarizzare ulteriormente il mercato del lavoro e di tagliare il welfare. Queste sono le famose riforme strutturali che dovrebbero dare l'abbrivio a chissà quale crescita. La strada, è evidente che l'Italia ha bisogno di riforme, ma riforme vere che riguardano appunto la giustizia, la pubblica amministrazione, ma l'Italia ha bisogno di una politica industriale, ha bisogno di investimenti pubblici e privati e ha bisogno che la Banca Centrale Europea continui a fare quello che ha fatto egregiamente fino a qualche mese fa, e cioè una banca centrale che in un'economia di guerra, perché noi siamo in un'economia di guerra, gli Stati Uniti non hanno un'economia di guerra, sono molto lontani dalla guerra, non hanno il problema del costo delle materie prime come l'Italia o altri paesi europei. La Banca Centrale Europea deve farsi carico di questo debito Covid, chiamiamolo così, che non può essere trattato in via ordinaria. Se viene trattato come se fosse un debito accumulato per eccessi di spesa pubblica, diventa davvero complicato poi andare avanti. Senta, vuole dire qualcosa sul comportamento della Lagarde in questi mesi, che ha lasciato parecchi margini di ambiguità. Abbiamo visto che ha fatto delle dichiarazioni che poi ha ritrattato, che hanno aperto un fronte di incertezza. Allora, lei comincia a pensare che questa sia un'incertezza voluta, oppure che lei non sia preparata ad affrontare questa situazione di un'economia di guerra? È evidente che qualche aggiustamento alla comunicazione la Presidente della BC lo dovrebbe fare, dopodiché però non nascondiamoci dietro un dito. Ci sono stati dell'Eurozona importanti che vogliono un cambio di rotta. Questa storia dell'indipendenza della Banca Centrale vale fino a un certo punto, nel senso che è vero che ha uno statuto ultraliberista, che non hanno né la Federal Reserve né la Bank of England, perché lo statuto della BCE ha solo un unico obiettivo, che è quello dell'inflazione. È assolutamente assente ogni riferimento all'occupazione, a differenza di quanto è nello statuto delle altre due banche centrali che ho ricordato. Dopodiché però la BCE ha degli stakeholder politici che stanno a Berlino, che stanno nelle capitali dei paesi frugali, che sostengono e spingono per il cambio di rotta. Quindi torniamo alle responsabilità della politica. Poi è chiaro che chi fa il presidente rileva, come comunica ai mercati rileva, però qua ci sono dei nodi politici che devono essere affrontati e non possono essere scaricati sui presunti tecnici, perché la politica monetaria non ha nulla di tecnico, è la quintessenza della politica. Ultima domanda. Cosa si aspetta adesso dell'autorità degli Stati Uniti? Allora, lei ha detto che loro vivono una situazione di non un'economia di guerra. e qualcuno ha maliziosamente detto che, insomma, in qualche modo hanno messo in difficoltà la nostra economia, quella europea. Allora, lei si aspetta un'altra mossa da parte delle autorità monetarie americane che metteranno in difficoltà ancora di più la nostra economia? Ma loro, la Federal Reserve, sta andando avanti, diciamo, rispetto a un quadro macroeconomico che è diverso dal nostro, perché la dinamica salariale è stata sostenuta nell'ultimo anno, a differenza di quella italiana e in generale di quella dell'eurozone. È evidente che in un quadro di stretta interconnessione finanziaria e commerciale la politica monetaria degli Stati Uniti rileva. La differenza sui tassi di interesse vuol dire che il dollaro si apprezza rispetto all'euro e quindi vuol dire che quanto importiamo in termini di risorse energetiche pagato in dollari ci costa di più in euro e quindi ha un impatto sull'inflazione. Quindi è evidente che la stretta monetaria negli Stati Uniti ha riflessi negativi da noi. Dopodiché abbiamo le spalle grosse, siamo un'area importante e con le misure giuste possiamo attutire gli effetti negativi. Se invece si agisce per favorire alcuni e non tenere conto del quadro complessivo dell'eurozona, per i paesi esposti come l'Italia è un problema molto serio. La ringrazio. Grazie a Stefano Fassina con il quale abbiamo parlato della crisi dello spread. Grazie.